La Zafir Mulattieri-Valdimagra chiude il 2023 tornando finalmente alla vittoria. I santostefanesi non sono ancora fuori dalla zona retrocessione nel girone A della Serie B maschile nazionale di pallavolo ma il 3-0 rifilato al Palaconti ai comaschi del Mozzate, oltre a portare tre punti, risollevano decisamente un morale dei valligiani che sembrava essere ormai precario. Ora un po' di rifiato e poi a lavorare duro in vista del nuovo anno. Intanto rivisitiamo col Presidente quello che se ne va. Diciamo che siamo riusciti a salvarci nella stagione del 2022-2023 con qualche difficoltà, però siamo riusciti comunque a rimanere nella Serie B e abbiamo cominciato non bene quest'annata, però oggi abbiamo fatto una determinata bella figura, abbiamo giocato anche abbastanza bene, se continuiamo con questa cadenza può darsi che riusciamo anche quest'anno con qualche difficoltà come l'anno scorso, però sarà più difficile dell'anno passato.